Ciao a tutti e benvenuti in un dolce video! Oggi apriremo questa scatola con tutti i dolcetti di Halloween! Per iniziare abbiamo marshmallow a forma di figure di Halloween! Ok, dopo riapriamo e vi facciamo vedere un po' come sono le cose. Questi sono lecca-lecca di cioccolato, pipistrello cioccolato, scheletro, cioccolato bianco e cioccolato scuro. Caramelle super gommose di Minions. Apriamo le caramelle super spaventose! Caramelle! Caramelle! Tante caramelle! Ci sono tante formine! Teschi, pipistrelli... Anche? Puzzà di pomodoro! Puzzà di pomodoro! Altre caramelle! Paura! Quindi? Un fantasmino? Si, giusto! Con tanti fantasmini e cose spaventose! Denti di Dracula e tanto altro! Andiamo avanti! Sacchetti! Sacchetti! Sacchetti pieni di cioccolato! Sacchetti pieni, pieni, pieni di cioccolata! Guardiamo un po', tante figure, tanti occhioni! Quelli dell'anno scorso! Alfonso che prende... Queste sono delle figure! Mettiamo qua e vediamo! Ci sono streghe, vampiri... Dicevo streghe, vampiri... streghetta... E questo che cos'è, Mattia, che tu hai tolto? Uno... Frankenstein! Frankenstein, uno slime! Non capisco! Va bene! Sono sempre dolcetti! E mentre questi sono... Dei fantasmini! Tutti di cioccolato! Con tante facce diverse! Chi sorride? Chi è impazzito? Chi ha paura? Adesso continuiamo! Togliamo! Occhio! Attenta l'occhio! Togliamo la scatola che si è svuotata! Noi siamo pieni di cioccolate! Quindi? Perché quando finireanno... Abbiamo un po' di carie! Adesso iniziamo ad assaggiare! Un fantasmino e una zucchetta! Come sono? Cioccolatissimo! Dolci dolci? Per Mattia sono? Buoni? Mmm! 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 E per questo video cioccolatoso è tutto! Iscrivetevi al canale! Lasciate un like! E se non vi siete iscritti! Iscrivetevi! Condividete con i vostri amici l'iscrizione! E guardate anche i nostri video! E Mattia ci fa vedere una zucchetta! Mangiala! Mangiala la zucchetta! Buona vero? Mmm! Lui continua a mangiare! E per questo video è tutto! Ciao! Ci ha mangiato l'occhio!